Faccio questo video proprio incazzato a nero perché non mi ci avete mai visto, forse oggi incazzato a nero Porca troia, allora sono ritornato perché mi sono visto la partita insomma al centro commerciale che ogni tanto insomma da noi a Palermo ci sono le reti locali dove trasmettono la partita e ogni tanto vanno un po' in questi centri commerciali di cui ce n'è uno in particolare dove trasmettono sempre ed è qua vicino al mio quartiere Ora, devo fare un'analisi a questa partita ma seriamente mi state dicendo Avete presente quelle persone proprio incazzate nere, sai tipo con la nervatura che gli esce fuori no? Ecco, io ho la stessa cosa, la stessa fottuta cosa, sempre Io sono incazzato nero, ma lo sapete perché? Perché oggi ho visto una squadra che ha lottato pallone su pallone su ogni pallone, su ogni fottuto pallone Non ho mai visto un Palermo così perfetto Oggi ero là pronto insomma a vedermi la partita Eravamo già al settantesimo, adesso non mi ricordo Prima del gol dell'1-1 nel Pisa E io ho detto, va dai sì finalmente porca puttana Anche se non siamo capaci Non siamo capaci, adesso vi spiegherò in che senso Non siamo capaci ecco Di far gol, quindi di chiudere questa fottuta partita È chiaro che poi un gol di merda ci arriva, ci arriva sempre Noi siamo i coglioni che ci facciamo prendere sti gol del genere Porca troia! Noi siamo capaci di questo Una squadra come il Pisa Intanto merita rispetto perché è una squadra che sta facendo bene in campionato E ci mancherebbe Però penso che oggi un qualsiasi tifoso pisano Almeno che non sia proprio antisportivo Mi dirà sotto i commenti Oggi il Palermo meritava di vincere Perché i palloni che gli abbiamo rifilato in porta sono stati tanti Il loro portiere è stato veramente bravo a pararvi tutti Poi c'è Sibilli Sibilli è tipo il Soleri del Pisa Non fa tantissimi gol Però poi Così A caso Fa sto tiro Sotto l'incrocio dei pali In un secondo tempo dove il Palermo Non ha giocato come nel primo Ma è comunque rimasto in partita Ha avuto le opportunità pure per chiuderla definitivamente Non siamo stati capaci Sono contento che Di Mariano Almeno abbia fatto il gol E poi tra l'altro il suo secondo gol col Palermo E sempre col Pisa Incredibile Spero che comunque continui così Perché se lo vediamo in questa maniera E giocando con questa formazione Che secondo me Corini ha fatto la miglior formazione Da quando è allenatore del Palermo Io penso che questa squadra possa dire la sua Perché tutti dicevano Eh vabbè ma a Pisa sicuramente prenderemo gol Anche io attenzione Anche io ho detto una cosa del genere Pensando appunto alla gara che avevamo fatto in precedenza Contro la Ternana Una Ternana che non veniva da chissà quali risultati stupendi E alla fine è così Noi abbiamo fatto sto gol Gol di Di Mariano Brunori sbaglia l'ennesimo calcio di rigore E che quindi Numeri alla mano insomma Se non sbagliate quel rigore Di Mariano successivamente faceva quel gol Probabilmente già la partita l'avresti chiusa O comunque loro l'avrebbero riaperta A quel minuto lì Poi non lo so Comunque fatto sta che il Pisa ci li fa brutti Ci li fa veramente brutti Comunque complimenti perché alla fine sono riusciti a strappare un pareggio Dove magari la loro squadra non era ingiornata Probabilmente se devo usare Come dire Un'opinione che non vada un po' troppo contro Alla squadra perché dico il Pisa Oh porca miseria Se stanno lì sopra e hanno rimontato Dopo un inizio di stagione Veramente insomma Deprimente Evidentemente ci sarà un motivo se si ritrovano in quella zona di classifica E hanno il doppio dei gol fatti E dei gol non subiti Ecco Di noi Quindi ci sta Ci sta E' una gara Dove il Palermo Nel primo tempo poteva benissimo chiuderla Senza nessun problema Senza nessun problema Ripetete i nomi insieme a me Senza nessun problema Quando hai vero a centrocampo Hai in fase Cioè in cabina di regia Riesce a giocarti così bene E hai un Saric così in forma Questo Palermo Fa paura Il Palermo Torna a ripetere Ha tenuto Il Pisa Nel primo tempo soprattutto Nella sua metà campo Loro hanno fatto se no Un tiro Di cui uno sbilenco Forse di Moreo Mi sembra Su un mezzo rimpallo Che gli ha fatto Marconi Poi a proposito Sti cazzo di infortuni Porca miseria Ma la vogliamo evitare ogni santa volta Di avere un'infortunata partita E che cavolo Ogni volta Ogni volta Tra l'altro oggi mancava Gomez Damiani oggi si è comportato Veramente bene L'attacco Soleri Brunori A me piace Perché comunque vedo che Soleri supporta il più Brunori Infatti oggi rispetto alla gara precedente E anche l'altra gara precedente Ad esempio col Frosinone Si è visto un Palermo Molto molto più attivo Si è visto un Brunori Anche più ispirato A prescindere Torna a ripetere Del calcio di rigore Però c'è un vizio Ultimamente pare che Lotti più per la classifica Cannoniere Che per giocare Insomma di più Con la squadra Attenzione Non è una critica Perché devo andare Per forza contro qualcuno L'ho fatto anche con Di Mariano E lo faccio anche con Brunori Brunori Ha un vizio Un enorme vizio Che molte volte Può costare caro E non è solo un discorso Di calcio di rigore Che ci può stare Le hanno sbagliati i migliori Le ha sbagliati Baggio Pensa pensa se Non li può sbagliare uno Come Brunori E Quello che mi fa arrabbiare È proprio questo Che lui Non passa a me la palla Ci sono state 3, 4, 5, 6 Occasioni Di contropiede In cui poteva dare la palla Benissimo Su una fascia O nell'altra fascia E non ha Concluso niente Torno a ripetere È un peccato Questo video Tra l'altro Manco lo edito Sicuramente Lo metterò così Proprio a fresco Perché sono Veramente incazzato Dentro di me E anche a inizio video L'avete visto Non si può Cioè Che andiamo avanti Di pareggite allora Ora io non so Se commenterò Se riuscirò a commentare Il prossimo post partita Che farò sul Cittadella Altra trasferta Insidiosa Perché ci ha perso Sì Ci ha perso La Ternana Se non mi sbaglio In casa Hanno perso in casa La Ternana Contro il Cittadella Negli ultimi 3-4 minuti Quindi Attenzione A questa squadra Che si sta riprendendo Noi siamo lì Incollati alla zona playoff Il problema è Cavolo Vogliamo svegliarci Per quanto riguarda L'incisività Sottoporta Vogliamo capire Che i tiri in porta Dalla distanza Sono utili Saric oggi ha fatto Se non sbaglio 2-3 tiri in porta Anzi 2-3 tiri Di preciso Due in porta Di cui uno Il portiere Ha fatto un miracolo Perché se non si allungava Col braccio La palla entrava Sicuro Ma ecco È questo che bisogna fare Tirare in porta Oggi c'era l'occasione Di farlo E siamo stati capaci Di farlo Verre mi è piaciuto molto Perché si vede Che è un regista nato Ed era quello Che volevo io Nel calciomercato di gennaio E voi ve ne siete accorti Gli ho dato un voto altissimo E ha fatto un'ottima partita Anche Aurelio Ragazzi Anche Aurelio Sì Ha perso qualche pallone In fase difensiva Però ha fatto una bella partita Ogni cross Che lui faceva Andava sulla testa O sul piede Di un giocatore Della nostra squadra E a me questa cosa Fa piacere Soleri non avrà segnato Però è utilissima La manovra L'avete visto come Il duo Brunori e Soleri È molto più veloce Del duo Ad esempio Soleri e Tutino O Brunori Tutino Al di là Perché penso che anche Tutino Ha delle qualità Sennò altrimenti Non lo compravamo Ma È più tecnico Tutino Rispetto a Soleri Secondo me Però È un po' più lento Se noi facciamo Più velocità Nella manovra In fase offensiva Il Palermo può creare Più occasioni da gol Poi è ovvio Ragazzi Davanti alla porta Porca miseria Dobbiamo fargli gol I rigori Io il Palermo Penso che sia la squadra Che ha sbagliato Più rigori Forse in Italia Se non nel mondo Perché veramente Io non ricordo Un Palermo Dove almeno In una stagione Non abbia mai Sbagliato un rigore È una roba impossibile Quindi che si decida Almeno di far battere A qualcun altro Perché Davvero Io sono senza parole E torno a ripeter Mi dispiace per Brunori Perché Brunori Poi è stato anche in grado In alcune partite Vedi la gara contro Lascoli Di sbagliare un rigore E poi farti doppietta Quindi è un giocatore Che secondo me Va servito meglio Ma allo stesso tempo Anche lui deve capire Quando dare la palla E quando no Perché tu ti metti Al servizio di una squadra Ti metti al servizio Dei tuoi compagni di squadra E quindi tu devi cercare Di fare La miglior cosa possibile Devi cercare Di supportarli Detto ciò Ragazzi Questo è il mio pensiero Un pari che secondo me Brucia parecchio Secondo me Meritavamo di vincere E torno a ripetere Spero che i Pisani Dicano Obiettivamente Che è stata una partita Dove il Palermo Meritava Sicuramente Soprattutto Nel primo tempo Di stare In vantaggio Anche forse Più di un gol Con più di un gol Nel secondo tempo Torno a ripetere Il Pisa poi ha iniziato a spingere È stato molto bravo A fare i cambi subito Secondo me D'Angelo E poi è riuscito a pareggiarla Con questa perla Dove non arrivavano i tiri in porta Dei giocatori del Pisa L'unico tiri in porta Alla fine Il Pisa Ci purga Pareggio Secondo me Meritato Alla fine Buon per il Pisa Che alla fine Riesce sempre A mantenersi E a non perdere Noi Non riusciamo per ora Più a vincere Spero che Nella prossima gara Il Palermo Riproponga Questa formazione Che Corini Faccia dei cambi Giusti Oggi i cambi Li ha fatti tutti giusti Però secondo me Ecco Gli ultimi 20 minuti Mi hanno dato un po' fastidio Perché ha abbassato il baricentro E di conseguenza Il Palermo ha iniziato a difendersi E qua Purtroppo Avvengono Le cose peggiori Del Palermo Ovvero Sì Non è che abbia subito Tantissimi gol Ma allo stesso tempo Dico io Ma tu sull'1-0 Che fa? Ti va a chiudere in difesa? Lo sai benissimo Lo sai per certo Che Nell'atmosfera Lo sanno già tutti Che il Palermo All'unico tiro in porta È capace di farti buttare Il pallone in rete E così È storia Non è una cosa Che mi sto inventando È un dato di fatto Con noi succedono queste cose Alla fine Il pareggio È questo 1-1 Vediamo la prossima gara Che cosa ci dirà Però io spero sempre E torno a ripetere Io credo Nei playoff Sì Ci metto la mano sul fuoco Dico anche L'ottavo posto Secondo me Quindi Proprio l'ultimo treno Per la zona playoff Ditemi la vostra Che cosa ne pensate E ovviamente Sempre 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 Forza Palermo Ciao ragazzi Un abbraccio